Come ripartono i saloni, quali sono i suoi pensieri riguardo a questa grande manifestazione? Questa manifestazione va sempre al di là delle aspettative, perché è un successo enorme ed è uno dei volani del cambiamento e dello sviluppo dell'arredamento di tutte quelle strutture e le nuove idee per arredare le nostre case dove viviamo poco, magari molte volte, ma ci vogliamo vivere bene. Diciamo che le aspettative, è difficile quale aspettative avere, perché come ho detto prima, il salone del mondo va sempre a tirare delle aspettative. Senz'altro speriamo che questo salone del mondo, che è sempre un guerriero di grandi successi, possa dare una spinta che oggi è necessaria alla nostra economia e da un po' il fiore e l'occhia a noi in tutto il mondo per la nostra creatività e per lo sviluppo dell'arte e dell'etimità.